Non c'è Natale senza le puncezie Questa è arte per te Arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te Oggi siamo qui per creare un altro fiore con la carta Oggi facciamo le puncezie, più conosciute col nome di stelle di Natale Sì, una bella puncezia, vedrete quanto è semplice fare le stelle di Natale che sembrano quasi vere Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamole a fare insieme Ed ecco l'occorrente per creare le nostre bellissime, facilissime ed economicissime stelle di Natale O puncezie Ci occorrerà una matita Un paio di forbici Un pezzettino di polistirolo Di quelli non troppo densi, quelli con le palline belle grosse Un accendino E ragazzi non ve lo dico per fare pubblicità a questa marca che non mi paga Ma mi raccomando, gli accendini comprateli di buona marca Io uso solo Bic da quando lanciando un accendino Lanciando così da questa altezza da 15 centimetri un accendino nella Bull Dove tengo le ricariche delle Yenti Candle Mi è andato, è scoppiato ed è andato a fuoco Mi stava prendendo fuori il tuo casa perché ha preso fuoco anche il quadro sopra quella Bull Quindi insomma possono succedere veramente delle cose gravi con delle stupidaggini Quindi comprate, l'accendino non costa niente, compratelo di buona qualità No China Quindi io lo prendo Bic Poi della comunissima carta Questa è la carta che vendono all'Ikea nel reparto bambini, giocattoli bambini È la carta arrotolata che serve per far disegnare i bambini E con questa si possono fare 250.000 lavoretti, costa pochissimo quindi acquistatela perché è molto buona Ci occorreranno anche della Vinavil ed un pennello appunto per la Vinavil Della con la spray è il nostro glitter che fa tanto Natale Cominciamo subito a preparare le nostre stelle di Natale Come prima cosa prendiamo una porzione di carta abbastanza ampia Io la sto prendendo un 50 cm per 50 cm E come vedete la sto dividendo a metà Quindi taglio Senza misure, tutto circa, quasi, più o meno Non vi fate problemi, questo è un lavoretto di creatività nel vero senso della parola Non ci sono misure da prendere Quindi lo piego in due, creando due quadrati abbastanza ampi Che taglio insieme E altri due quadratini Così E io qui sto facendo un sacco di spreco di carta Già ve lo sto dicendo Avremo alla fine tre rettangoli Che piegheremo in tre quadrati approssimativi Questi a sua volta io li piego in due E a sua volta in due Quindi piegatone uno Faccio la stessa cosa anche con gli altri Il più grande Se ce ne fosse uno più grande E comincio a disegnare la sagoma di un petalo Ora, se non la sapete disegnare Non vi preoccupate Perché vi metto la foto sulla pagina Facebook di Arte per Te Nell'album Natale di Arte per Te Ovviamente poi quella sagoma Ve la fate in tre dimensioni differenti E fate quello che sto facendo E ve la ricalcate proprio su questi quadratini Bene, disegno più o meno la forma della mia puncezia Partendo da un punto Uno E due Ovviamente la foglia non la chiudo Ma la faccio congiungere con l'angolo Ritaglio Quello che avremo alla fine sarà questo Prendiamo il secondo dei nostri quadratini Segniamo qual è il punto di fine della prima tranche di petali Che mettiamo da parte E dobbiamo farli leggermente più piccoli Di un due centimetri più piccoli Quindi da due centimetri sotto Partiamo a disegnare un'altra foglia Così E ritaglio Prendiamo il terzo quadratino E a questo punto Dobbiamo fare una terza foglia Che sia ancora più piccola Quindi mi tengo la misura della precedente La sposto E faccio ancora più piccola La mia foglietta Ok Così E indovinate un po' Ritaglio A questo punto Quello che avremo Saranno Questi Saranno queste tre sagome Di petali Prima di Aprirli Dobbiamo Bruciarne I bordi Tutto attorno Ora Mi raccomando State molto attenti Mettetevi sul lavello Così se dovesse prendere fuoco Aprite direttamente l'acqua E buttate tutto lì State attenti Se siete piccoli Non lo fate Fatevi aiutare dei genitori Per fare questo lavoretto Bisogna avere almeno 18 anni Quindi Un lavoretto vi è dato ai minori Quindi ragazzi Non facciamo cavolate Mi raccomando Non trasformiamo il Natale In un'ecatombe Testa sulle spalle E quello che non sapete fare Non fatelo Questa cosa Potete farla anche Con un po' di pigmento Basta passarlo col dito Io lo faccio Con l'accendino Perché la tecnica Lo prevede Quindi vi faccio vedere Accendiamo il nostro accendino E bruciamo Sbruciacchiamo I margini Quindi spegniamo subito Una volta che si sono Appena anneriti Bruciamo E spegniamo Bruciamo E spegniamo Arrivati a questo punto Potete tranquillamente Aprire i vostri petali E adesso Dobbiamo fare una cosa Un pochino particolare Dobbiamo Vedete come vengono Con questi bordini Un po' più scuri Dobbiamo prenderli E con delicatezza Accartucciarli Dico con delicatezza Perché dovete Ammaccarli molto bene Ma non strapparli Ma non strapparli A una a una Adesso appallottoliamo Tutti i nostri petali Adesso Dobbiamo fare un'altra cosa Sempre con l'accendino Quindi Prendiamo I nostri fiori Decidiamo Qual è la parte frontale Quella che si vede E ognuno di questi Lo pieghiamo A metà Ok? Quindi Prendiamo l'accendino E Senza bruciare Facciamo questo lavoro Di avvicinamento E allontanamento Dell'accendino Guardate In senso Così In lunghezza Questo è un modo Per colorare La carta Guardate Senza farla sostare Voilà Vedete che viene Il perfilo nero Di sbruciacchiato Ma non la buca Se invece Perdete il controllo Bucherà Adesso Dobbiamo fare I tipici Raggi Come si chiamano Le ramificazioni Appunto Della Della foglia Quelle che dal centro Si partono Verso le foglie Come si fa? Si prende la punta E si piega Così E si schiaccia Ben bene Quindi Si prende Un po' più giù Si gira E si fa una sorta Di twist Si attorciglia Il tutto Quindi Facciamo un terzo twist E schiacciamo Ben bene Apriamo E Quello che avremo Vedete Sarà La piegatura Tipica Della Fogliame E dei fiori Anche Procediamo Così Con tutti i petali Quindi Prima Piegatura All'infuore Così E Sbruciacchiatura Senza perdere il controllo Se doveste bucarne Una foglia Non ci fa niente Una Due foglie Bucate Non ci fa nulla Certo Se le andate a incendiare Tutte quante E' finita la bellezza del fiore Quindi controllo E concentrazione Arrivati a questo punto Quello che avremo Sarà questo E guardate Mi si è bucata Una foglia Perché? Perché mi è arrivata Una telefonata E mi sono distratta Cominciamo ad assemblarla Prendiamo la Vinavil E il pennello E Poniamo Al centro Un pochino Pochino di Vinavil Non tantissima Quindi A croce Mettiamo I petali Così Tac Guardate Non è lei Non è lei Già l'avete vista Immagino La state inquadrando Ora Un altro Po' di Vinavil E prendiamo I petali intermedi E Ridisponiamoli A croce Tac E schiacciamo In mezzo Prendiamo L'altro Viene molto simile A quella vera Ragazzi Viene bellissima E Schiacciamo Tac Già così Sarebbe Bella Ma io ho fatto Anche i petali Un poco poco Più piccoli Perché mi piace Averla Bella ricca Quindi Altri due giri Sempre Sfalzando A croce Non è stupenda Adesso Dobbiamo fare Il centrale Il centrale Lo voglio fare Un po' più Natalizio E meno Realistico Perché Realistico E nero E verde Un po' giallognolo Invece Voglio farlo Bianco E oro Prendo Del polistirolo Anzi Innanzitutto Prendo Della Vinavil E la metto Proprio qua Nel centro Così Faccio Un tondino Di Vinavil Dopodiché Prendo Il polistirolo A palline E lo butto Lì dove Ho adagiato La mia Vinavil Simulerà Perfettamente Il centro Della stella Di Natale Quindi Sgrattugio Pallina Per pallina Adagiati Tutti i pallini Guardate Visto È molto Molto simile All'originale Prendiamo La nostra Colla spray E Spruzziamo Il polistirolo Di colla spray Questo Avrà Una duplice Funzione Da una parte Farà stare Il loco Il polistirolo E potrò Aggiungere Altri Granuletti E poi E soprattutto E poi Ci servirà Per far aderire Del glitter Sopra Le palline E per Ingellire Leggermente Le palline Che assumeranno Così Il colore Della carta Bagno bene Di colla Il centrale E Prendo Il glitter E lo Spolverizzo Sulle mie Palline Di polistirolo Prendo il mio fiore E lo scaravolto All'interno Della giarina Liberando Dall'eccesso E vedo un po' Com'è la situazione Se ci sono delle palline Ancora Senza glitter Colla Colla Che così Aggancerà Perfettamente Anche quello Che ho messo E glitter Spero Spero che questo modo Semplice Ed economicissimo Di crearvi Questo stupendo Fiore in carta Mi sia piaciuto Mi raccomando State attenti Con il fuoco Potete usarla Come rifinitura Di una carda Appiccicata Ad un pacchetto Semplicemente Come centrotavola Tutto attorno Creando un centrotavola Tutto attorno A una candela State attenti Perché è di carta Quindi magari Mettetela solo Per ornamento L'importante È che ne prepariate Almeno due Per uno dei prossimi video Una così grande E una un po' più piccola Perché le useremo Prestissime insieme Vi lascio nel dubbio E nella curiosità Ora Vi mando le foto E noi Ci rivediamo dopo Ciao Visto che belle Le nostre stelle di Natale Ma non sembrano vere È facilissimo farle Basta semplicemente Un po' di pazienza Spero che questo video Vi sia piaciuto Se è così Mi raccomando Regalatemi un pollice in su E cominciate a glitterarli Questi pollici Che il Natale si avvicina A me non rimane Che dirvi Che vi aspetto sempre Anche sul mio secondo canale Ombrette E sul mio canale di cucina Il canale che ho insieme a Gabriele Quel pasticcione Spero di rivedervi tutti qui Al prossimo video Buona preparazione al Natale Da ombretta e da arte Per te è tutto Arrivederci Ciao